Tadà! Ragazzi il video di oggi non è niente altro che una cosa super divertente Io vado a conoscere la cucina di Elbis Quella applicazione che c'è solo in monopattino Però adesso c'è anche questa cosa incredibile Questa cucina con tanti tipi diversi di cibo Che fanno tutto in un posto solo e consegnano a tutta Milano E io vado a conoscere questa cucina insieme da una presenza speciale Vieni con me Buongiorno! Siamo arrivati alla cucina di Elbis Andiamo a esplorare Facciamo un giro qua intorno a vedere cose sono gli uffici Dove sono i ragazzi della consegna Com'è? Vediamo Ciao! Qui ragazzi mi sembra reception Ufficio All'ufficio Ciao! Ragazzi non so se avete notato come è fatta questa cucina all'interno Guardate la particolarità del pavimento che è fatto proprio una rotonda Quindi tutto un percorso studiato apposta per facilitare il trasporto I ragazzi si stanno preparando sono tutti qui dentro sul garage e da qui usciranno e andranno a prelevare il vostro pacchetto pronto qui così Andiamo insieme nelle cucine di Elbis Ragazzi sono pronta per entrare nelle cucine La Elbis si sta preparando Certo perché è molto importante che dobbiamo essere l'igiene Andiamo! Min amore vieni! Vai che ti seguo! Io non ci credo che stiamo facendo questo Questo è il gelato Il reparto gelato Il reparto gelato Sono tutti gelati Ciao ragazzi! Ciao! Vanno i sushi guarda Che vanno consegnati insieme al patente Un patto di lato Secondo me questo la potrete È abbastanza complicato perché non lo devi schiacciare Sì 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 Sei brava lei Luciano Bravissima Lo sai fare molto bene? Non ci credo Vai! Ah guarda Grazie Grazie mille Elena si sta preparando al suo momento Fai prima tu? Ma guarda come fanno l'hamburger Questa secondo me è la cosa che mi piace di più di questo hamburger E' che la mozzarella è un pochino assanitata Vero? A questo? Sì Posso mangiarle anch'io? No questo non lo devi mangiare Elena Lo dobbiamo consegnare Lo dobbiamo consegnare E così arriva Caldino a casa tua Vediamo qui cosa c'è Audrey adesso dove siamo? Adesso siamo arrivati nell'ultima postazione di Howdy's Kitchen E indovinate cos'è? La pizza Buongiorno 10 minuti 10 minuti nel fondo possiamo fare una pizza Ah possiamo fare una pizza Yeeey Vieni Elena Vieni Elena Stai con te Cavolo bellissima la mia pizza scusami eh Sto dando un spettacolo qua E va distribuita E va andare qui indietro Wow Bravo 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 Grazie 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 Ragazzi c'è una persona importantissima Qua chi è lui? L'impresario che ha costruito Elvis Kitchen E quindi tu hai costruito tutto qua? Si Tutto il rosa Di Paolo Un progetto di Paolo Brava siete stati Era un garage Cos'era qua? Un'auto rimessa Molto moderno Molto bello tutto Cos'è? Abbiamo pensato adesso che Del fatto che siamo stati qui tutta la mattina A disturbare Arrivato allora Abbiamo avuto una idea molto bella Cosa facciamo Audrey? Andiamo a consegnare il Abbiamo a consegnare un cibo E adesso io sono pronta Io sono prontissima Ciao Elena Eccoci Ragazzi Missione compiuta oggi È stata un'esperienza pazzesca A partire dalle cucine Al trasporto Cucinare Tutto consegna Ce l'abbiamo fatta Siamo super contenti Spero vi è piaciuto il video E niente Seguite il canale Fai like Segui Audrey Vi porteremo il cibo a casa E scarica la pesata Perché veramente Ciao 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 Grazie a tutti.